Una donna, Giovanna Ranieri, di 60 anni, è morta nella serata di ieri 9 agosto in un incidente stradale che si è verificato nel quartiere Lido in località Giovino. . Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti la donna sarebbe stata stata travolta da un'automobile, una Citroen C3, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali su Viale Crotone. La macchina, guidata da un uomo, proveniva dal centro di Catanzaro in direzione Crotone, scrive Il Quotidiano del Sud, la donna non è morta sul colpo ma durante il viaggio in ospedale. . . .